E amici, questo è il collega dell'Opera di Bordeaux che si occupa di fare tutti questi progetti. Buongiorno, messieurs. Buongiorno, io sono Xavier de la Royère e io mi occupo delle relazioni dell'Opera di Bordeaux con la regione aquitaine. Oggi siamo a NERAC, un joli village, per intervenire con voi, con Salvatore Mocotto, in una classe di studenti che fanno cantare, tutti insieme. Salvatore va dare alcuni consigli ai studenti per rapporto al classico della voce, alla tecnica vocale, e poi a far chanter un po' su questo che hanno l'habitude di trovare. E in qualche tempo, i viendranno ascoltare l'Opera dell'Opera, qui a l'Espace d'Albré. E noi siamo molto contenti di fare questo progetto con voi, ma spero che possiamo fare più con l'Opera dell'Opera. Sì, bene senti. Ok, au revoir.